E tu, tu, si, proprio tu, sicuramente non hai visto che è uscito un mio nuovo video sul mio canale personale Quindi ti consiglio di cliccare sul link qui sotto in descrizione e andarlo subito a vedere Perché come ho detto nello scorso video, volevo tanti iscritti, quante visualizzazioni Ma non è stato così, non ti preoccupare, ti perdono, clicca qui sotto e vai a iscriverti e guarda il mio nuovo video Perché il protagonista potresti essere proprio tu, 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 un po' un coglione Grazie